Salve a tutti, ben ritrovati amici di TriskellePixel e io sono il vostro invocato. Come potete vedere ho fatto un cambiamento per la squadra, in questo caso, perché voglio fare la missione di Apra per la sua amicizia. Poche parole, cioè le solite missioni. Adesso parliamo con Apra. E dov'è? Cargaghan? Vabbè, siamo qui su un fuoco e vediamo dov'è questo posto. Ah beh... Sì, è qui... Sì, è qui... Diciamo... A casa di Siora. Ma dov'è che bisogna andare? Oh mio Dio, ma quanto... Perché siamo qui? Ok, cerchiamo di andare qui il più velocemente possibile. Aspetta... Questo... Sì. Oddio, sbaglio. Ok. E noi dobbiamo andare qua. Sperando di non trovare gente adesso. Anche se ho già visto Apra come combatte, vi dico che è anche bella forte. Ora che ha anche una nuova arma, è ancora più forte di prima. Sì, gli ho cambiato anche le armi. Mi dispiace, vi troverò la volpe un'altra volta. Sì, perché ho fatto... Ho preso una missione da loro che dovevo... Dovrei ammazzare delle volpi, ma... Trovare l'ultima volpe. Salve. Oh... Cavoli. Un po' più al centro. Nuova zona, nuovo luogo, ragazzi. Eh dai, non è neanche tanto grande. Intanto cerchiamo di arrivare qua. Non so se però scendere o... Sì, dobbiamo scendere. Orco boia, quanto cazzo sono forti. Allora, va bene. Allora, va bene. Ok, Sì, non lo so. Dimmi che salgo di rivello No Peccato Sarebbe stato bello Vediamo C'erano questi qua che sono altamente Pi forti di noi Oh eccolo lì Oh due accampamenti Ci possono allestire qua Allora Intanto andiamo avanti con la missione qua Cavoli sale forte Oof Questa nuova moglie non ha l'ora E siamo troppo vicino dal villaggio per chiedere aiuto Come ci siamo salvati? C'è un pochino che farà evitare i effetti del Venom I have a vial of it in my bag Hold on Thank you Truly the best winds have brought you to us Here drink this Don't worry It'll heal you You can trust her She knows what she's doing Bene Perfetto What do you feel? Oi Oi Feel the pain Leaving me She is saved You have great wisdom May the trees always bear fruits on your journey You have saved Morian It was nothing I'm glad I could help you You are different from other Reneksi You know the potions But what were you looking for here? We came to study this place The carvings in particular This is one of our places of ritual A place of connection What do you hope to learn from our carvings? I I seek to understand the mechanisms of your transformations I think these carvings could help with this You seek the secrets of the Donegada You should speak with Armal Yes His name is Dunkas He is also our Donegad And his wisdom is boundless Dunkas Here is someone who should be able to answer all your questions, Aphra Let us go then We will have time to discuss on the way I have so many questions about this place About the rituals that take place here S pourquoi so Dunkas Which is not a start Un suo kart Un suo amico Perché l'ha aiutato con una missione secondaria Ragazzi C'è katt Siamo amici Quindi Amico di un isolano Facciamo subito Papai Cicci E mi dice già tutto Che bello fare le missioni secondarie quando voi non le vedete ragazzi Perfetto, dovete andare a meditare ora, devo parlare con loro Sono diversi da altri, sono sicuro di tutto Sento la tua gratitudine Morion, ti honra Ora vieni, lasciate noi Tu sei ancora Reneigse, grazie per salvare Morion È stato un gestione giusto Por favor, non possiamo lasciare la morte senza farlo Questo sentimento dà l'honneur Ma cosa stai facendo da l'honneur in Kergenau? È stato io che guidare i miei amici Io ho spero di studiare l'honneur per capire la tua cultura Morion sempre chiede la stessa cosa Ci hanno salvato i nostri segreti per farlo Per farlo, per farlo, per farlo i nostri Come, ora Talvez questa Morionese è diversa da altre Maybe we were wrong about them too Siamo con noi tonight Eat and celebrate life Maybe by sharing this joyous moment You will learn something We accept your invitation Isn't that right to Sade? Of course Thank you for welcoming us, Dunkers Boh E stasera ci rivertiamo un casino ragazzi Bolge E alcol Oh I'm sorry Grazie Grazie May the moon Watch over your dreams Is something wrong? Dunkers wasn't here tonight Yet he's the one who invited us to stay I also saw one of the elders sneaking out of the village You think they're hiding something from us? I don't know But since they don't want to share their knowledge with us Let's try to follow them I don't like it one bit, Aphra If the elders and Dunkers are gone Then we have no right to follow them In that case Why don't you explain where the transformation comes from? It's It's not something that can be explained that easily You have to believe to understand You are not capable I see So we will discreetly follow these people Since this is the price of knowing No, yes, now no I don't want Wait, where are you? Here they are Let's try not to be detected Seguemoli Senza farci notare stavolta Ah, ma stavolta so dove vogliono andare Si, si, ho capito dove vogliono andare Why don't the creatures attack them? I don't know Are they guarding this place? If they're trained to guard it This must be a very important place Fungent I have any evidence I can't Sp dipping Let's try not We have any evidence In the case Here is a A Fungent We have no evidence We have no evidence You have to do There is You have to take They are You have to take Eh, anche quel tacchino era addestrato. Sì, la porta è qua sotto. Cavoli, come cacchia si scendeva? Non mi ricordo più. E ci sono anche passato perché avevo trovato una cosa figa lì sotto. Com'era che si scendeva? Eh, cavoli. Sì, ora mi ricordo, ragazzi. Come potete vedere qui ho già fatto tutto, ho già visto. Deve essere un loro luogo di qua. Sì, ormai ci vediamo. 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 Sì, ormai. Sì, ormai ci vediamo. Sì, ormai ci vediamo che si vediamo. Sì, o che ho detto. Sì, o che ho detto ti vediamo? Tanto ci vediamo a queste nuove persone, ci abbiamo aiutato. Il fatto che hanno tutti pronti per scendere i loro. Abbiamo un'esperienza unica per vedere una trasformazione con i nostri occhi. Ma non possiamo li seguirei a dove passano. No, non è sicuro. Dobbiamo pensare. Vieni a me parlare dopo. e abbiamo anche preso dei punti vabbè dai ragazzi vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio ciao